buongiorno a tutti è felice 2024 ci troviamo a Morise e questa è la suite il bellissimo alloggio che ci ha ospitato in questa notte di capodanno il Morise è una regione molto sconosciuta ma bellissima molto ospitali e calorosi termoli e stupenda per cui se siete curiosi di sapere qualcosa in più su questo alloggio che potrebbe ospitare anche voi allora io bene cadigonto è la nostra camera che ci ospiterà a termoli si presenta così siamo in soffitta questa è la camera da vetto con delle piantine un bel termossifone scrivania divano lavandino una cabina armadi un bel balcone dice un grazioso specchio un altro termossifone un bagno gigantesco con una doccia fantastica tutti i sanitari e ora vi mostro il fuori c'è questa grandissima finestra scorrevole che porta questa terrazzina con delle graziosi poltrone il mare là dietro questa è la città che sembra tutto cemento ma in realtà tutto qua dietro c'è il corso questa palazzina ospita diverse stanze questa è l'ultima la più grande e si trova in un punto strategico della città due passi dal centro storico ma veramente tre minuti a piedi due passi del mare uguale cinque minuti e siete proprio nella porticciolo e dietro esattamente dietro il corso dove si tengono gli eventi una strada molto bella ricca di negozi elegantissima in questo periodo natalizio decorata con delle luminarie pazzesche